E' una grande passione, veramente. Giorgio, chi li voglia di amirlo? Giorgio! Bene. E' che non c'è la scuola, guarda, guarda, tranquillo. Tutto bello in ciclietta. Perché domani in presenza delle comunioni, no, fa... Ah, due o tre matrimonio, fa... Perché Giorgio è veramente un amico e la dedizione che ci mette nel lavoro è veramente, veramente amico. Giorgio è conosciutissima tra i giovani artisti, tra i ragazzi, che dà un grandissimo servizio, molto, molto meraviglioso, una persona molto amata. E noi ci siamo sentiti di fare una doppietta... Io mi sono sentito di dare un biglietto a tua moglie di un avvocato per divorziare, perché erano te coglioni, che sei sempre in giro. E gli ho detto, guarda, tieni sto biglietto, spendi poco perché sei sempre in giro. No, no, Giorgio veramente. Scherzo con lui, perché posso dire che abbiamo condiviso un sacco di cose, è veramente un ragazzo, una persona seria. Ah, ragazzi, siamo ragazzi. Siamo ragazzi. Via col secondo penno per Giorgio Arnaldo. Grazie, prego, per Giorgio. Bene, grazie, Giorgio. Sai che ti vogliamo bene, nonostante ti faccio cancellare due o tre matrimoni. Un bacio a Giorgio. Grazie di essere con noi, grazie. Ultimo! Ma non ultimo! Con lui condivisi una grappa!